Oltre 65 mili mobili con 4 miliardi di valori immobiliari, quindi si tratta di una scommessa fondamentale, valorizzare, più che alienare, valorizzare. Con la sottoscrizione dell'accordo tra Comune di Napoli e Invimit, partecipata del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entra nel vivo il piano di risanamento dei conti pubblici che segue alla ferma del Patto per Napoli. Si avvia il vasto piano di valorizzazione ed efficientamento del patrimonio comunale con l'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare gestiti dalla Invimit. Da soli non potevamo fare tutto ciò ed ecco che allora con Invimit, che è la società di Stato che gestisce molte parti del patrimonio, stabiliamo questo accordo di valorizzazione consegnando a loro intanto circa 600 immobili. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare importante che noi vogliamo valorizzare, quindi questo voglio sottolineare il senso di questa parola che significa metterlo a reddito, fare in modo che venga utilizzato all'interesse ovviamente del Comune, dei cittadini. Abbiamo tanti spazi molto importanti e sicuramente il lavoro che faremo con Invimit per noi, come già stato fatto in altre grandi città, è una parte importante di questo processo, che è un processo che significa rimettere in ordine i conti del Comune, però significa anche utilizzare in maniera appropriata gli spazi pubblici. Il primo passo dopo la ricognizione dell'intero patrimonio di proprietà del Comune, ad eccezione dell'edilizia residenziale pubblica, è l'individuazione di un gruppo di immobili da valorizzare attraverso l'inserimento nell'apposito fondo Napoli. Invimit è un gestore del patrimonio pubblico, lo facciamo attraverso i fondi immobiliari. Farlo attraverso i fondi immobiliari significa portare sul territorio investitori, investitori istituzionali, significa portare capitali, significa portare benessere, perché le esternalità positive che si generano quando si rigenera il territorio sono eccezionali e superano di gran lungo a qualunque manovra espansiva che potrebbe fare il Governo. Noi siamo dei veri investitori e non chiediamo dei rendimenti che sono quelli del mercato, per così dire, da investitore privato, perché il nostro rendimento sono proprio le esternalità positive che genereremo sul territorio. Si parte con questo primo step, ci saranno i tempi della due diligence che prenderanno qualche mese per intervenire poi su un patrimonio immobiliare che è straordinario e di straordinaria bellezza. Inizialmente saranno circa 600 unità per un valore che supera i 30 milioni di euro che InVimit gestirà nell'interesse del Comune. Tra queste la Galleria Principe di fronte al MAN, Palazzo Cavalcanti in Via Toledo e il deposito ANM di Posillipo. Nel giro di qualche anno io penso che potremmo ottenere due risultati, uno un incremento di molte decine di milioni, ma dall'altro soprattutto rimettere in campo il patrimonio che oggi è malmesso degradato e già di per sé valorizzarlo anche indipendentemente dalla sua vendita o concessione.